Rockers, date voce alla vostra musica su Radio Marilu. Radio Marilu e la Grande Mela presentano Musicland Rock Contest. Siete dei cantanti? Avete una band? Collegatevi subito su marilu.it e compilate il form dedicato al Musicland Rock Contest. Inviateci le vostre canzoni che verranno pubblicate poi sul sito di Radio Marilu. 50 saranno le band selezionate che si sfideranno in 10 serate live dal 18 giugno al 21 agosto presso la nuova area spettacoli del centro commerciale La Grande Mela di Sona, Verona. Domenica 3 settembre, la finalissima. 5.000 euro di monte premi totale e al primo classificato 2.500 euro in gift card. Inviaci subito la tua canzone entro domenica 11 giugno. Info e regolamento completo su marilu.it. Outmin Rick, Radio Marilu, Born to Rock.